Buongiorno e benvenuti in un vlog di un martedì qualunque, di una settimana, qualunque, benissimo. Allora, ho comprato questa mandolina su Amazon, convinta che fosse la svolta della vita, perché non ce l'avevo, non l'avevo mai usata, ma in realtà non so perché, non sono riuscita molto bene ad usarla e non mi hanno soddisfatto tutti i tagli che c'erano. C'erano a disposizione un sacco di cose, ma non erano quello proprio che volevo, infatti mi sta facendo le melanzane alla julienne. Vabbè, comunque ormai ho cominciato a farle così e quindi continuo a farle così, dopo vi farò vedere in realtà come le faccio di solito. Comunque avevo queste verdure che avevo preso al mercato mercoledì e siccome stamattina non avevo consulenze per quanto riguarda il mio lavoro e io ci tengo particolarmente a passare il tempo con i miei figli nel pomeriggio, mi preparo spesso le verdure prima, così che sono la cosa che mi porta via più tempo per preparare la cena. Ecco fatto, infatti su TikTok potete trovare tanti video delle mie cene in anticipo, perché mi piace così prepararla prima, in questo modo io riesco perfettamente a godermi i bambini nel pomeriggio. Benissimo, comunque melanzane, zucchine, peperoni e carote, mettiamo un po' d'olio, mezzo bicchiere d'acqua, sale, pepe e paprika. Mettiamo nel forno e ecco qua, in realtà poi ho deciso di fare un'altra teglia da mettere in congelatore pronta all'uso e questa volta raga lo faccio col coltello perché la mandolina proprio no, non mi ha soddisfatto il taglio, ecco. Anche se con le carote è andata molto bene, per farle alle julienne funziona molto bene, con le carote sì, con la melanzana assolutamente no e neanche con la zucchina non mi piace tagliata a julienne, anche se è venuta molto buona comunque la ricetta. Allora, come vedete taglio tutto al coltello, anche le carote vengono buonissime, io le adoro. Metto tutto in questa teglia d'alluminio, il coperchio non c'era nella confezione, quindi andrò a ricoprirlo con un foglio, insomma, di carta d'alluminio e lo metterò nel freezer. Quando poi avrò voglia di cucinarle, le tirerò fuori ancora congelate e le schiafferò nel forno così come sono. Quando si sono un po' scongelate aggiungo il condimento, mescolo un po' e rimetto ancora un po' nel forno. Nel frattempo sto facendo anche le cime di raba perché stasera ci farò la pasta, in questo modo sono già pronte. E adesso invece facciamo anche delle zucchine grigliate perché la verdura stava andando, quindi dovevo farla tutta. Quindi prendo tutte le zucchine, o quasi, e le faccio a fetine. In questo la mandolina è servita, devo dire che è ottimo, le zucchine sono venute sottilissime, anche se le avrei preferite, non dico mezzo centimetro in più, diciamo così. E passo tutta la mattina a fare questa operazione, ragazzi. Ci ho messo tipo dalle 9 di mattina fino all'una e mezza per fare questo che vedete voi in 5 minuti. Però in questo modo per tutta la settimana, o quasi, ho le verdure pronte da mangiare al bisogno. Ecco fatto, adesso griglio tutto e per condirle io preparo, non so come si chiama, comunque prendo una ciotolina, ci metto dentro l'olio, il sale, il pepe e di solito ci spremo dentro l'aglio con lo spremialio, ma l'avevo finito e quindi questa volta ci ho messo l'aglio in polvere. Fortunatamente ce l'ho sempre quello a disposizione. Ah, e anche un po' di prezzemolo che in questo momento, come vedete, sto tritando. Ecco fatto. Adesso io preparo, finisco tutto, poi pranzo, ovviamente. E ovviamente mi sono mangiata un po' di verdure grigliate con una mozzarella. E poi mi preparo per andare a prendere i bambini. Ho anche stirato nel frattempo, ma non l'ho ripreso perché non avevo, non ci ho pensato. Comunque ho fatto anche quello. Qui mi stavo lamentando che le zucchine ci mettessero così tanto a cuocersi. Ecco qua che sono uscite le verdure dal forno. Bene, le mettiamo in un contenitore di vetro. Io amo questi contenitori di vetro di Ikea. E vedete come metto tutte le verdure. Ecco, qui abbiamo quelle che abbiamo cotto nel forno. Perfetto. Poi prendiamo quelle grigliate che sono pronte. E anche quelle le mettiamo nel contenitore di vetro e via via che faccio uno strato, lo spennello con la preparazione che abbiamo fatto prima, vedete. E poi anche queste via dentro il frigorifero, pronte da essere scaldate o anche fredde, sono buone. Nel pomeriggio con i bambini esco e vado da Pepco. Facciamo un giretto, compriamo un po' di cose e vi ho fatto il video haul di Pepco, ovviamente. Poi torniamo a casa e i bambini preparano le polpette. Non dovevo cuocerle, ma loro ci tenevano. E quindi, vabbè, le dovevo cuocere all'ora di cena, ma le abbiamo cotte prima, le scalderemo dopo, vabbè, non importa. Poi gli dico, ragazzi, cambiatevi che andiamo un pochino su in terrazza. Però occhio che c'è un po' di vento, quindi mettetevi qualcosa di un po' più pesante. Caterina si è cambiata, si è messa la maglietta, maniche lunghe. Tommaso invece, ora vi faccio vedere cosa si è messo, mannaggia. Si è messo il pigiamone di pile di Pikachu. L'avete visto? Eccolo qui. E poi giocano un po' con la sabbia cinetica, che è bellissima. Se volete la trovate nel link in bio di Amazon, però solo in terrazza. In casa fa un casino allucinante. Ovviamente poi faccio la doccia entrambi, prima di cena. Così mangiamo e loro sono già belli che pronti per andare a nanna. Quindi lavano i denti, un po' di coccole, poi si va a letto presto. Ovviamente perché domani c'è scuola. Faccio il bagno anche a Caterina, gli lavo anche i capelli, che sono una tragedia da asciugare. Ci mettiamo tantissimo. E decido di fargli anche una piccola acconciatura, che di solito quando gliela faccio così, con questi elastichi piccolini, li dura qualche giorno, quindi due o tre giorni. Li durerà sicuramente, anche se ci dorme non succede niente. Quindi asciughiamo tutto, mettiamo il balsamo spray. E ho fatto questa cosina carina. Il blog finisce qui, non scordatevi di mettermi un like. E io vi saluto, ciao a tutti! Grazie a tutti!